La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questo è l'articolo 5 e sicuramente il miglior modo di rapportarsi alla Costituzione è quello indicato da Calamandrei nel 1955, un discorso che fa agli studenti e dice che la Costituzione non deve essere immobile, va sempre rivista, ripensata e conclude il discorso dicendo voi ragazzi dovete metterci il vostro spirito, la vostra gioventù e questo per fortuna accade e all'articolo 5 è successo nel 2005, c'è stato un rinnovo, una riforma dell'articolo con l'articolo 114, l'istituzione dell'articolo 114 che dice appunto che l'Italia è formata da comuni, province, regioni e per ultima nomina lo Stato, quindi quasi è speculare al 5 ma in maggiore protezione della differenza perché la differenza è la ricchezza e questo se pensiamo la letteratura è l'antinomia, provincia, città o periferia, centro diventa, è un luogo reale, non so, Bianciardi, Luciano Bianciardi nei suoi romanzi, il lavoro culturale, la vita agra, l'integrazione prima, racconta attraverso i suoi personaggi se stesso, comunque lo spostamento che ha fatto lui, che lascia Grosseto e arriva nella grande Milano, nella metropoli, ma è anche questa antinomia un luogo metaforico, la ricerca e quindi motore narrativo, la ricerca di centro, l'ambizione di un centro che può essere anche apice dell'archia sociale, pensiamo a Bellamy, e però centro anche come senso, come ricerca di sé, verità. Personalmente la letteratura che mi interessa di più è quella che parla di tutti i tentativi di raggiungere il centro, il senso, però tentativi anche affannati, disperati, ma vani, e quindi che è una letteratura che racconta la prossimità al vero e non il vero esatto.